Parla tifoso partenopeo. Benvenuti ad un altro video di notizie di Napoli. Il canale dedicato a tutte le novità sul nostro amato Napoli. Oggi parleremo di un argomento che scotta dietro le quinte del club, la possibile partenza di Alessio Zerbin, uno dei giovani talenti del Napoli che, a quanto pare, non rientra nei piani di Antonio. Conte per la nuova stagione. Secondo le ultime informazioni di Radio Kiss Kiss Napoli, Zerbin è vicinissimo al ritorno al Monza, club dove ha giocato nella seconda metà della scorsa stagione. Le trattative sono in fase avanzata e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Capiamo cosa c'è in gioco in questo trasferimento, le implicazioni per il Napoli e cosa aspettarci da Zerbin al Monza. Prima di analizzare i dettagli del trasferimento, bisogna capire il contesto che ha portato Alessio Zerbin a essere escluso dai piani di Antonio Conte. Zerbin, classe 1999, è un attaccante versatile, capace di giocare sia largo che centrale. Nonostante il suo potenziale, ha avuto difficoltà ad imporsi nella prima squadra del Napoli, soprattutto dopo l'arrivo di Conte, che ha una visione ben precisa sul profilo dei giocatori che vuole in. Rosa Conte, noto per il suo approccio tattico rigoroso e la preferenza per i giocatori esperti, sembra aver deciso che Zerbin non rientra nello schema per la stagione 2024-2025. Con ciò il consiglio direttivo del Napoli ha iniziato ad esplorare le opzioni per il futuro del giovane giocatore. Ed è in questo scenario che entra in scena il Monza. Il club, che si sta consolidando come una forza emergente in Serie A, conosce già bene Alessio Zerbin, che ha giocato per la squadra la scorsa stagione in prestito. Zerbin ha disputato una prestazione soddisfacente a Monza, e la squadra guidata da Adriano Galliani non nasconde l'interesse a riportare il giocatore. Il Monza vede in Zerbin un giocatore fondamentale per rinforzare l'attacco, soprattutto considerando l'ambizione del club di imporsi in testa alla classifica. Galliani, figura esperta del calcio italiano, è determinato a chiudere la trattativa, e la trattativa tra le parti è già in fase avanzata. Parliamo di trattative. Il Monza cerca un prestito con diritto di riscatto, ma è proprio la clausola di riscatto il punto di maggiore divergenza. Se il Napoli vuole garantire una giusta valutazione del giocatore, il Monza, come è prevedibile, cerca un'opzione di acquisto vantaggiosa e che non comprometta troppo il budget del club. Ciò che sappiamo finora è che le conversazioni sono state intense, con entrambe le parti che hanno cercato di trovare una via di mezzo. L'avvicinarsi della chiusura della trattativa, secondo fonti di radio Kiss Kiss Napoli, indica che l'accordo è in fase di definizione, ma ci sono ancora alcuni dettagli da aggiustare. Per il Monza Alessio, Zerbin rappresenta più di un semplice rinforzo in attacco. È visto come un giocatore che può portare dinamismo e gioventù alla squadra, qualcosa di fondamentale per un club che sta cercando di consolidarsi in Serie A. Zerbin ha già dimostrato di avere qualità e potenzialità, e una nuova stagione a Monza potrebbe essere proprio quello che gli serve per fare un passo avanti nella sua carriera. La fiducia di Galliani in Zerbin è alta, e i tifosi del Monza sono entusiasti della possibilità di riavere l'attaccante. Se riuscirà ad adattarsi rapidamente allo stile di gioco della squadra e a trovare coerenza, Zerbin potrebbe diventare uno dei momenti salienti della stagione del Monza. Ma che dire del Napoli? Cosa rappresenta questo risultato? Per il Napoli la partenza di Zerbin potrebbe essere vista come un'occasione per liberare spazi rosa e puntare, su giocatori più in linea con la visione di Antonio Conte. Allo stesso tempo, se il prestito prevede un'opzione di riscatto che il Monza attiva, il Napoli potrà reinvestire quella somma in altri settori della squadra. C'è però anche un rischio, se Zerbin esplode a Monza, il Napoli potrebbe vedere uno dei suoi talenti valorizzarsi lontano dal San Paolo. Per Zerbin questo cambiamento potrebbe essere cruciale. Il ritorno al Monza gli dà la possibilità di giocare regolarmente e di dimostrare il suo valore in un ambiente, in cui si sente già a suo agio. È un'opportunità per crescere, acquisire fiducia e, chissà, in futuro tornare al Napoli da giocatore più completo e maturo. Sembra che la parte finale della sceneggiatura sia stata completata, ma approfondiremo alcuni punti per assicurarci che soddisfi il tempo di lettura richiesto, approfondendo le implicazioni del trasferimento e le reazioni dei fan. Estenderò l'analisi in modo che il contenuto sia ancora più robusto e coinvolgente. Ricordiamo un po' la carriera di Alessio Zerbin al Napoli. Zerbin è arrivato al club con tante aspettative, visto come un giovane promettente capace di dare nuova linfa all'attacco partenopeo. Tuttavia, il suo viaggio è stato segnato da alti e bassi. Dopo aver giocato in diversi club in prestito, Zerbin ha faticato a imporsi come tassello fondamentale nello schema tattico di diversi allenatori passati per il Napoli. Nonostante abbia mostrato sprazzi di talento, non è mai riuscito a trovare la costanza necessaria per assicurarsi un posto in prima squadra. Questa mancanza di opportunità è stata ulteriormente intensificata con l'arrivo di Antonio Conte, un allenatore che, storicamente, preferisce lavorare con giocatori che hanno già un certo livello di maturità ed esperienza. Conte sta cercando di costruire una squadra solida, pronta a competere su tutti i fronti, e sembra che, a suo avviso, Zerbin non sia ancora pronto per essere quel giocatore chiave. È importante sottolineare quanto possa essere vantaggioso la continuità per la carriera di un giovane come Zerbin. La scorsa stagione al Monza gli ha fornito una preziosa opportunità per guadagnare tempo in un campionato, competitivo come la Serie A. Non solo ha avuto la possibilità di giocare regolarmente, ma anche di svilupparsi tatticamente e acquisire la sicurezza necessaria per competere ai massimi livelli. Questo tipo di esperienza ha un valore inestimabile per un giovane giocatore, e tornare a Monza potrebbe significare continuare questo percorso di crescita. Galliani e la dirigenza del Monza sembrano esserne consapevoli e per questo tengono tanto al ritorno di Zerbin. Vedono in lui un giocatore che può fare la differenza, soprattutto ora che ha familiarità con l'ambiente del club e le aspettative del campionato. Con un'altra stagione solida, Zerbin potrebbe affermarsi come uno dei giocatori chiave del Monza e, chissà, attirare l'attenzione di altri grandi club in futuro. Ora parliamo delle sfide che il Napoli deve affrontare nel mercato, soprattutto in relazione a giovani talenti come Zerbin. Il club ha una storia di scoperta e sviluppo di giocatori, ma spesso deve affrontare la difficile decisione su quando vendere o mantenere questi talenti. Nel caso di Zerbin, la decisione di restituirlo al Monza potrebbe essere vista come un modo per permettergli di maturare al di fuori, della pressione immediata di giocare nel Napoli, dove l'è. Aspettative sono altissime. D'altro canto, il Napoli deve stare attento a non perdere giovani talenti che potrebbero diventare grandi stelle. Lo abbiamo visto accadere con altri giocatori che hanno lasciato il club troppo presto e si sono distinti altrove. La vendita di talenti promettenti deve sempre essere bilanciata con la necessità di mantenere una squadra, competitiva e preparata per le esigenze delle competizioni europee e nazionali. Un punto che non possiamo non menzionare è la reazione dei tifosi del Napoli. I tifosi sono noti per la loro passione e lealtà verso il club, ma anche per le loro forti opinioni sulle decisioni di trasferimento. Zerbin è un giocatore che tanti tifosi guardano con affetto, come un giovane che rappresenta il futuro del club. La notizia della sua possibile partenza potrebbe generare reazioni diverse, da chi comprende la necessità del giocatore di giocare più tempo a chi crede che dovrebbe avere una possibilità nella prima squadra. Questa polarizzazione è comune nei grandi club, dove ogni mossa di mercato viene dibattuta intensamente. Per il direttivo del Napoli è fondamentale mantenere una comunicazione chiara e trasparente con i tifosi, spiegando le ragioni dietro le decisioni e dimostrando che il club è impegnato a costruire. Una squadra forte e competitiva, sia nel presente che nel futuro. Infine, tifosi azzurri. Il possibile trasferimento di Alessio Zerbin al Monza è un altro capitolo della complessa storia di mercato del Napoli. Siamo di fronte ad una decisione che potrebbe avere implicazioni importanti sia per il futuro del giocatore che per quello del club. Zerbin ha la possibilità di continuare la sua crescita in un ambiente che lo valorizza, mentre il Napoli potrebbe trarne vantaggio in futuro, sia a livello finanziario che riportando un giocatore più maturo e preparato. In attesa dell'annuncio ufficiale, una cosa è certa, il futuro di Zerbin sarà seguito con attenzione da tutti noi. Speriamo che questa decisione sia la migliore per tutte le parti coinvolte e che, qualunque cosa accada, il Napoli continui a crescere e a cercare il successo in tutte le competizioni. Grazie per averci seguito qui. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere il video e iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento sul Napoli. Forza Napoli sempre!